Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA 18 Ultimate Team perché? Perché finalmente sono stati annunciati e sono usciti tutti i giocatori del Team of the Year. Abbiamo la squadra, quella dell'anno, c'è stato un piccolo cambiamento questa volta perché la squadra è stata votata dalla community che contava per il 60% e Training Arts ha scelto una serie di influencer che hanno poi o deciso loro o hanno fatto votare i propri iscritti su YouTube, su Twitch, insomma hanno cercato di coinvolgere la community, non hanno quindi utilizzato il Team of the Year classico utilizzato dalla FIFA infatti lo stiamo vedendo subito per gli attaccanti c'è una novità perché non c'è Neymar come molti si aspettavano c'è Harry Kane, capocannoniere in Premier, mi pare 56 gol nel 2017. Il problema di questo Team of the Year era il fatto che si basava sull'anno 2017 basandosi sul 2017 diventava difficile trovare giocatori che sono stati costanti tutto l'anno perché lo stesso Ronaldo è stato migliore nella prima parte di stagione piuttosto che la seconda, Messi magari viceversa nella seconda parte di stagione, il Barcelona sta giocando molto molto meglio rispetto ai primi mesi di conseguenza poi oltre al fatto che ovviamente facendo votare la community la maggior parte erano inglesi e dunque seguono solo la Premier League è un Team of the Year a forti tinte inglesi, infatti se andiamo anche a vedere i centrocampisti troviamo De Bruyne e Kanté che sono delle new entry per il Team of the Year, Modric che addirittura è stato il terzo più votato a centrocampo nonostante per me sia uno dei centrocampisti, se non il centrocampista più forte al mondo insieme al suo compagno di squadra Tony Cross è arrivato solo terzo nelle votazioni, però fortunatamente è riuscito a mantenere il posto anche per i difensori ci sono state un minimo delle sorprese perché se Bonucci è riuscito a sopravvivere c'è stato anche un cambiamento da parte di Electronic Arts perché la community voleva Valencia, il terzino destro dello United Electronic Arts ha però deciso di inserire Dani Alves facendo pesare il suo 40% è stata l'unica modifica che ha apportato Electronic Arts alle decisioni della community purtroppo importa di conseguenza visto che c'era De Gea candidato e De Gea è uno dei giocatori preferiti in Inghilterra soprattutto Buffon ha perso l'occasione per guadagnare la prima e forse ultima carta Team of the Year della sua carriera ovviamente perché in FIFA Ultimate Team non ne ha mai avute, probabilmente con un FIFA Ultimate Team su FIFA 03, 04, 05 sarebbe riuscito a ottenerla questa carta, non c'era e quindi anche quest'anno è stato fatto fuori a favore di De Gea andando a vedere le statistiche devo dire che è un Team of the Year pazzesco le carte dovrebbero tornare disponibili da venerdì alle 19 per tutto il weekend fino a lunedì alle 19 nei pacchetti quindi potreste ancora trovarne qualcuno se volete comprarle state molto molto attenti perché l'anno scorso i prezzi più bassi furono un mesetto dopo vuol dire che fino al più o meno capodanno cinese che quest'anno mi pare cada intorno al 15 di febbraio potrebbero scendere il prezzo di questi Team of the Year le statistiche sono ovviamente esagerate e anche i prezzi di conseguenza perché questo è davvero il Team of the Year che come valori dei giocatori più alti in assoluto perché se pensiamo a De Bruyne e Kanté hanno delle statistiche totalmente fuori di testa cioè statistiche pazzesche fortissime come carte e di conseguenza costano di più di un Iniesta Team of the Year che abbiamo visto gli anni scorsi anche i difensori prendiamo Bonucci che probabilmente sarà insieme a Daniel Vesci il difensore più economico economico tra molte virgolette perché Bonucci mettendo le 80 di velocità, 97 di difesa, 96 di fisico più anche 92 di passaggio cioè sono valori da centrocampista addirittura come statistiche in game Bonucci ha mi pare 90 di longshot insomma ha dei valori pazzeschi sono carte molto molto costose però se si riconferma il trend dello scorso anno potreste prenderle tra un mesetto e risparmiare qualcosa poi dovrebbero salire e poi verso la fine di aprile, inizio di maggio andare in grande discesa quindi potreste comunque recuperarle anche durante l'estate alla fine rimarranno nel gioco, sul mercato si troveranno tranquillamente poi molte di queste carte avranno anche versioni Team of the Season che saranno per forza di cose più economiche avete i crediti a disposizione per prenderlo? sì? no? ora io vi consiglio quali secondo me sono delle carte necessarie da avere allora Ronaldo voi direte è necessario averlo? beh se avete tutti quei crediti vuol dire che probabilmente avete già uno squadrone se invece volete costruire una squadra intorno a Ronaldo avete giusto magari quei 5 milioni e 2, 6 milioni che chiedono a seconda su Xbox One a Playstation 4 vi direi di non comprare questo Cristiano Ronaldo potrebbe, a parte che la versione base è già fortissima in più oltre alla versione base potreste comprarvi un Gullit 90 altri iconi, insomma 2 meglio di uno spesso quindi questo Ronaldo è consigliato per chi? per chi ha già davvero tantissimi crediti una disponibilità illimitata chi apre molti pacchetti poi se lo trovate io non riuscirei a vendolo cioè se riuscite a trovare Ronaldo Team of the Year in un pack non riuscirei a venderlo perché è un evento che accade una volta nella vita e non potete buttarlo così Kane state molto attenti perché al momento è molto costoso secondo me è troppo costoso per il valore del giocatore e conoscendo la Premier avrà un sacco, un sacco di versioni inform Messi invece ve lo consiglio perché ha fatto un upgrade netto al fisico rispetto alla carta base quindi lui sì, lui è davvero clamorosa clamorosa come carta, tutte sono carte forti però Messi con l'upgrade al fisico soprattutto la forza fisica diventa un trequartista pazzesco vi consiglio di partire 4-3-2-1 e metterlo trequartista per quanto riguarda i centrocampisti beh sicuramente Modric se volete utilizzare un minimo di Liga Santander è un signor centrocampista vi consiglio De Bruyne perché perché a febbraio potrebbe ricevere così come l'ha ricevuto in stagioni normale l'upgrade alle stelle piededebole al momento ha 4 stelle skill, 4 stelle piededebole con l'upgrade di febbraio che c'è già stato in stagioni De Bruyne potrebbe arrivare a 5 stelle piededebole diventando ancora più forte Kantè personalmente è una carta che ritengo fortissima ma vi direi state attenti perché costa come Viera Prime che è comunque molto forte come CDC e soprattutto è più alto a me piacciono avere i mediani particolarmente alti poi Viera è... capite subito che... di quello di cui sto cercando di spiegarvi cioè se avete incontrato Viera Prime è un giocatore davvero assurdo praticamente insuperabile Sergio Ramos e Marcelo probabilmente li vedremo insieme sono anche loro consigliati per team endgame Dani Alvesh ve lo consiglio se avete una difesa a 5 può fare l'esterno in difesa a 5 non prendetelo come terzino destro prendetevi piuttosto Monier che è molto molto migliore come terzino rispetto a Dani Alvesh Dani Alvesh lo dovete utilizzare quasi come un'ala offensiva De Gea non ve lo consiglio perché è comunque fortissimo è probabilmente il miglior portiere del gioco ma conosciamo che i portieri su questo gioco fanno delle parate assurde anche già con le versioni base quindi vi direi De Gea prendete la versione base è già fortissima fa le sue papere come probabilmente fa anche la 97 e alcune parate non sono proprio parabili cioè sui gol a porta vuota avere De Gea a Totti o avere De Gea a base non cambia assolutamente niente chiudo su Bonucci lui è sicuramente consigliato se avete una serie A potrebbe essere inserito fino ad almeno i team of the season insomma questi sono i team of the year di PIVA18 ditemi se avete trovato qualcuno o se avete provato qualcuno se avete intenzione di provare qualcuno noi ci vedremo presto ciao a tutti